Umberto Eco. Credo che la maggior parte delle persone che vedranno questo video non si stupiranno a sentire questo nome. È il nome di un grandissimo scrittore mancato pochi anni fa, a Milano nel 2016. Molti lo considerano uno dei più grandi, se non il più grande intellettuale italiano degli ultimi decenni. Credo che molti di voi lo conoscano tuttavia soprattutto come romanziere e l'autore soprattutto del Nome della Rosa, pubblicato all'inizio degli anni Ottanta e che ha reso celebre in tutto il mondo questo grande scrittore. Umberto Eco però è stato anche tantissime altre cose. È stato un grande accademico, un grande docente universitario, un grande esperto di semiotica e l'autore di decine e decine di saggi scientifici molto interessanti ed importanti. È stato anche un massmediologo, cioè uno studioso dei media o media, come si dice adesso, dei grandi mezzi di comunicazione. E ripeto, nel corso della sua lunga esistenza ha pubblicato una quantità incredibile di articoli, di saggi, di libri, spaziando dalla narrativa alla saggistica. In numerose occasioni ha composto inoltre degli scritti occasionali. Che cosa significa questa espressione un po' particolare? Dunque, uno scritto occasionale non è uno scritto composto a caso, in maniera, come dire, appunto, occasionale, occasionalmente, come sembrerebbe far pensare la parola. È al contrario un testo realizzato per una circostanza, per un'occasione ben precisa, come ad esempio un testo da leggere in pubblico durante un convegno, oppure durante una conferenza, o in occasione di una cerimonia di commemorazione, magari di un grande personaggio mancato poco tempo prima. In sostanza si parla di scritti occasionali ogni volta che un autore compone intenzionalmente un testo, solitamente molto serio, per un'occasione seria, importante e ben precisa. Umberto Eco, però, è stato anche un genio, uno scrittore di grandissimo talento, e spesso nei suoi scritti occasionali non ha messo da parte l'ironia pungente che spesso lo caratterizzava. Vorrei proporvi quest'oggi la lettura di uno dei suoi tanti scritti occasionali. Come vedrete, si tratterà di un testo molto ironico, credo interessante, anche se non semplicissimo, ed è uno dei testi contenuti all'interno di un bel volume uscito una decina di anni fa, nel 2011, intitolato Costruire il nemico e altri scritti occasionali. Vedete che nel titolo di quest'opera compare l'espressione di cui abbiamo parlato nei minuti scorsi, scritti occasionali. Vi suggerisco la lettura di questo testo, non semplicissimo, ma a mio avviso molto variegato, al proprio interno è interessante. E, ripeto, a modi saggio, vi propongo la lettura di un testo dal titolo molto particolare, Andare per tesori. Come vedremo, non si parla di una vera e propria caccia al tesoro. I tesori di cui si parla sono le reliquie, i resti dei corpi dei santi, che, come sapete, nel Medioevo, e non solo, hanno avuto per la religione cristiana una grande importanza. Buon ascolto, dunque, e buona lettura. Andare per tesori. Andare per tesori è esperienza appassionante. Vale la pena di fare un viaggio, organizzandoselo bene, eseguendo un itinerario che porti a toccare i tesori più interessanti, scovandoli anche in abbazie minori. Può non valere più la pena di andare a Saint-Denis, alle porte di Parigi, dove nel XII secolo il grande Suger, collezionista raffinatissimo, devoto delle gemme, delle perle, degli avori, dei candelabri d'oro, dei pali d'altari storiati, aveva fatto dell'accumulazione di oggetti preziosi, una sorta di religione e una teoria filosofico-mistica. Purtroppo, reliquiari, vasi sacri, gli abiti indossati dai re nella cerimonia di consacrazione, la corona funebre di Luigi XVI e di Maria Antonietta, il pannello dell'adorazione dei pastori donato dal re sole, sono andati dispersi, anche se alcuni dei pezzi più raffinati sono ancora reperibili al Louvre. Non si può invece perdere una visita alla cattedrale di San Vito, a Praga, dove si possono trovare i crani di Santa Adalberto e San Venceslao, la spada di Santo Stefano, un frammento della croce, la tovaglia dell'ultima cena, un dente di Santa Margherita, un frammento della tibia di San Vitale, una costola di Santa Sofia, il mento di San Teobano, il bastone di Mosè, il vestito della Madonna. L'anello di fidanzamento di San Giuseppe stava nel catalogo del favoloso tesoro del duca di Berri, ora disperso, ma dovrebbe trovarsi a Notre-Dame a Parigi. Mentre nel tesoro imperiale di Vienna si può ammirare un pezzo della mangiatoia di Betlemme, la borsa di Santo Stefano, la lancia che ha colpito Gesù al costato con un chiodo della croce, la spada di Carlo Magno, un dente di San Giovanni Battista, un osso del braccio di Sant'Anna, le catene degli apostoli, un pezzo del vestito di Giovanni Evangelista, un altro frammento della tovaglia della cena. Ma per quanto si stia attenti ai tesori, ve ne saranno di vicinissimi che si ignorano. Credo, per esempio, che pochissimi milanesi, per non dire dei turisti, abbiano mai visitato il tesoro del Duomo di Milano. Vi si possono ammirare una copertura dell'Evangeliario di Ariberto, XI secolo, con deliziose placche in smalto cloisoné, filigrane d'oro, castoni con pietre preziose. La ricerca delle pietre preziose e delle loro diverse qualità è uno dei divertimenti preferiti degli appassionati di tesori, perché si tratta di riconoscere non solo il diamante, il rubino o lo smeraldo, ma anche quelle pietre che si trovano sempre nominate nei testi sacri come l'opale, il crisopazio, il berillo, l'agata, il diaspro, la sardonica. A essere bravi si debbono saper riconoscere le pietre buone dalle false. Sempre nel tesoro del Duomo c'è una grande statua argentia di San Carlo, di epoca barocca, che poiché ai committenti o ai donatori l'argento sembrava ancora materia da poco, preca un pettorale con croce che tutto un luccicare di pietre. E alcune, dice il catalogo, sono vere, altre no, e sono cristalli colorati. Ma lasciando cadere ogni acribia merceologica, si deve godere anzitutto quello che i costruttori di questi oggetti ne volevano ottenere, un effetto globale di sfavillio e ricchezza. anche perché la maggior parte dei materiali preziosi dei tesori sono autentici e rispetto alla vetrinetta laterale di un tesoro qualsiasi, la vetrina del maggior gioielliere di Parigi non vale una bancarella del mercato delle pulci. Suggerirei poi uno sguardo alla laringe di San Carlo Borromeo, ma ci si soffermi più attentamente davanti alla pace di Pio IV, che è una piccola edicola con due colonne in lapislazuli oro che inquadrano una deposizione nel sepolcro in oro. Sopra c'è una croce aurea con tredici diamanti su tondo dionice variegata e il piccolo frontone e centinato in oro agata lapislazuli e rubini. Risalendo più indietro nel tempo si trova una cassetta del periodo ambrosiano per le reliquie degli apostoli di argento sbalzato con magnifici bassoreglievi, benché quanto a bassoreglievi sia più affascinante un mistico fumetto in avorio detto dittico delle cinque parti, arte ravennate del V secolo con scene della vita di Cristo e al centro un agnello mistico in alveoli di argento dorato con paste di vetro, unica immagine a colori smorti su uno sfondo avorio vecchio. Sono esempi di quelli che una tradizione storica ci ha malamente abituati a chiamare arti minori. Ovviamente è arte senza aggettivo e se vi è intorno qualcosa di minore, che artisticamente vale meno, è proprio il Duomo stesso. Se ci fosse il diluvio e mi chiedessero se salvare il Duomo o il dittico delle cinque parti, sceglierei certamente quest'ultimo e non perché sia più facilmente allogabile nell'arca. Tuttavia, anche a considerare l'accusa cappella detta scurolo di San Carlo, col corpo del santo e un contenitore in argento e cristallo che mi è parso più miracoloso del contenuto, il tesoro del Duomo non mostra tutto ciò che potrebbe. Consultando l'inventario dei paramenti e delle suppelletti di sacre del Duomo di Milano, ci si rende conto che il tesoro propriamente detto è solo la minima parte di una raccolta, dispersa nelle varie sacristie, che contempla paramenti splendidi, vasi, avori, ori e reliquie ghiottissime, come alcune spine della corona di Gesù, un pezzo della croce, la certi vari di Sant'Agnese, Sant'Agata, Santa Caterina, Santa Prassede e dei Santi Simpliciano, Caio e Gerunzio. Quando si visita un tesoro non è necessario avvicinare le reliquie con animo scientifico, altrimenti si rischia di perdere la fede, poiché notizie leggendarie riportano che nel XII secolo, in una cattedrale tedesca, si conservava il cranio di San Giovanni Battista all'età di 12 anni. Ma una volta, in un monastero del Monte Athos, parlando col monaco bibliotecario, ho scoperto che era stato studente di Roland Barthes a Parigi e aveva fatto il 68 e quindi, sapendo lo uomo di cultura, gli ho chiesto se lui credeva all'autenticità delle reliquie che baciava devotamente ogni mattina all'alba durante un'interminabile e superba funzione religiosa. Lui mi ha sorriso con dolcezza, una certa maliziosa complicità, e mi ha detto che il problema non stava nell'autenticità, ma nella fede, e che lui, baciando le reliquie, ne avvertiva il mistico profumo. Insomma, non è la reliquia che fa la fede, ma la fede che fa la reliquia. Ma neppure un miscredente può sottrarsi al fascino di due portenti. Anzitutto l'oggetto stesso, queste cartilagini anonime ingiallite, misticamente ripugnanti, patetiche e misteriose, questi brandelli di abiti di chissà quale epoca, sbiaditi, scoloriti, sfilacciati, talora arrotolati in una fiala come un misterioso manoscritto nella bottiglia, materie spesso sbriciolate che si confondono con la stoffa e il metallo, l'osso, che fan loro da giaciglio. E, in secondo luogo, i contenitori, spesso di incredibile ricchezza, talora costruiti da un bricolore devoto con pezzi di altri reliquiari, a forma di torre, di piccola cattedrale con pinnacoli e cupole, per arrivare a certi reliquiari barocchi, i più belli sono a Vienna, che sono una foresta di sculture minute e sembrano orologi, carillon, scatole magiche. Alcuni ricordano, agli appassionati di arte contemporanea, le scatole surrealiste di Joseph Cornell e le teche piene di oggetti serializzati di Armand, reliquiari laici, ma che esibiscono lo stesso gusto per i materiali consunti e polverosi, per l'accumulazione forse nata, e impongono una visione analitica, minuta, che si rifiuta al semplice colpo d'occhio. Amare i tesori significa anche capire qual era il gusto e degli antichi mecenati medievali e dei collezionisti rinascimentali e barocchi, sino alle underkammern dei principi tedeschi. Non esisteva una distinzione netta tra oggetto devoto, trovata strana e opera d'arte. Un alto rilievo in avorio era prezioso sia per la fattura, noi diremmo oggi per l'arte, che per il valore della materia. E allo stesso titolo era avvertito come prezioso, godibile, meraviglioso, l'oggetto strano, per cui il tesoro del duca di Berri allineava insieme a calici e vasi di gran valore artistico anche un elefante impagliato, un basilisco, un uovo che un abate aveva trovato dentro un altro uovo della manna del deserto, una noce di cocco, un corno di unicorno. Tutto perduto? No, perché un corno di unicorno si trova anche nel tesoro di Vienna e vi dà la certezza che gli unicorni esistessero anche se il catalogo informa con spietatezza positivistica che si tratta di un corno di narvalo. Ma a questo punto il visitatore entrato nello spirito del buon amatore di tesori guarderà con lo stesso interesse al corno a una coppa di agata del IV secolo che la tradizione vuole sia la coppa del Graal, alla corona, al globo e allo scetro imperiale, splendori dell'oreficeria medievale, e siccome il tesoro di Vienna non conosce i limiti di tempo, ha letto a colonnine impero nel quale dormì lo sfortunato figlio di Napoleone, il re di Roma, ovvero l'Aiglon, che a questo punto diventa altrettanto leggendario degli unicorni e del Graal. E si deve essere capaci di dimenticare ciò che si è letto nelle storie dell'arte, di perdere il senso delle differenze tra curiosità e capolavoro, per godere anzitutto l'ammasso di meraviglie, la sfilata di prodigi, l'epifania dell'incredibile. E sognare il cranio di San Giovanni all'età di 12 anni, pregustando nelle venature rosee il color cenere di fondo, l'arabesco delle giunture sbriciolate e corrose e la teca che lo deve contenere, dagli smalti blu come l'altare di Verdun e il cuscinetto interno di raso ingiallito, coperto di roselline appassite nella teca di cristallo, senza aria da 2000 anni, tutto immobilizzato sotto vuoto, prima che il battista crescesse e perdesse sotto la spada del carnefice l'altro cranio, più maturo ma di minor valore mistico e commerciale, perché se una presunta testa è conservata nella chiesa di San Silvestro in capite a Roma, una tradizione precedente la voleva nella cattedrale di Amiens e comunque il capo custodito a Roma dovrebbe mancare della mandibola rivendicata dalla chiesa di San Lorenzo in Viterbo. Per il resto basta prendere la carta geografica e fissarsi degli itinerari fattibili. Per esempio la vera croce, scoperta a Gerusalemme da Sant'Elena, madre di Costantino, era stata sottratta dai persiani nel VII secolo e poi recuperata dall'imperatore bizantino Eratlio. Nel 1187 viene portata dai crociati sul campo di battaglia di Hattin perché assicurasse loro la vittoria contro il Saladino. La battaglia invece come è noto è stata perduta e della croce si sono perse le tracce per sempre. Tuttavia nei secoli precedenti ne erano stati prelevati numerosi frammenti che sono tuttora conservati in molte chiese. I tre chiodi, due per le mani e uno per i piedi inchiodati insieme, trovati ancora attaccati alla croce, sarebbero stati portati da Elena al figlio Costantino. Secondo la leggenda, uno di essi venne montato sul suo elmo da battaglia, da un altro invece fu ricavato un morso per il suo cavallo. Il terzo chiodo, secondo la tradizione, è conservato nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Il sacro morso, invece, si trova nel Duomo di Milano, dove due volte all'anno viene mostrato ai fedeli. Del chiodo montato sull'elmo si sono perse le tracce. Secondo una tradizione, si trova oggi nella corona ferrea conservata nel Duomo di Monza. La corona di spine, a lungo conservata a Costantinopoli, è stata poi cenuta al re Luigi IX di Francia, che la collocò nella Saint-Chapelle, da lui fatta appositamente costruire a Parigi. In origine essa aveva decine di spine, ma nel corso dei secoli esse furono donate a chiese, santuari e personaggi di riguardo, e oggi sono rimasti soli i rami intrecciati a forma di casco. La colonna della flagellazione è a Roma, in Santa Prassede. La sacra lancia, appartenuta a Carlo Magno e ai suoi successori, oggi si trova a Vienna. Il prepuzio di Gesù era conservato ed esposto nel giorno di Capodanno a Calcata, paesino nel Viterbese, fino al 1970, quando il barroco ne comunicò il furto. Ma hanno rivendicato il possesso di reliquia analoga? Roma, Santiago di Compostela, Chartres stessa, Besançon, Metz, Hildesheim, Charru, Conque, Langr, Anversa, Fecamp, Puyenvelet, Overnia. Il sangue di Gesù, scaturito dalla ferita al costato, secondo la tradizione, venne raccolto dal soldato longino che gli aveva sferrato il colpo di lancia. Egli lo avrebbe portato a Mantova. L'ampolla contenente il presunto sangue è custodita nella cattedrale della città. Altro sangue attribuito a Gesù è conservato in una teca cilindrica visibile nella basilica del sacro sangue a Bruges, in Belgio. La sacra culla è a Santa Maria Maggiore, Roma, la sacra sindone, come è note a Torino, la tovaglia di lino usata da Cristo per la lavanda dei piedi degli apostoli e nella chiesa romana di San Giovanni in Laterano, ma anche in Germania, ad Ac. Quest'ultima tovaglia riporterebbe addirittura l'impronta del piede di Giuda. Le fasce del bambino Gesù sono ad Acquisgrana, l'abitazione di Maria, dove avvenne l'annunciazione, è stata trasportata in volo da Nazareth a Loreto da alcuni angeli. In molte chiese sono conservati i presunti capelli di Maria, per esempio un capello è a Messina, o il suo latte, la sacra cintola, ovvero la cintura della Madonna è a Prato, l'anello nuziale di San Giuseppe a Perugia, in Duomo, gli anelli di finanziamento di Giuseppe e Maria a Notre-Dame di Parigi, la cintura di San Giuseppe, portata in Francia nel 1254 da Jeanville, e nella chiesa dei Foglianti a Parigi, il suo bastone ai Camaldolesi di Firenze. Frammenti di questo bastone sono inoltre a Santa Cecilia a Roma, Santa Anastasia a Roma, San Domenico a Bologna, San Giuseppe del Mercato. Frammenti della tomba di San Giuseppe sono in Santa Maria al Portico e in Santa Maria in Campitelli, a Roma. Frammenti del sacro velo della Madonna e della veste di San Giuseppe si trovano a Santa Maria di Licodia, conservati in un artistico reliquiario in argento, opera del XVII secolo. Tale reliquiario veniva portato in processione fino agli anni 70 del Novecento, l'ultimo sabato del mese di agosto, in occasione della festa patronale. Il corpo di San Pietro era stato sepolto a Roma, nel luogo vicino al suo martirio, presso il circo di Nerone. Sul posto venne poi costruita l'omonima Basilica Costantiniana e poi l'attuale Basilica di San Pietro. Nel 1964, a seguito di una campagna di scavi archeologici, fu annunciato il ritrovamento delle ossa dell'Apostolo, oggi collocate sotto l'altare. Il corpo di San Giacomo Maggiore, secondo la leggenda, fu trasportato dalla corrente del mare fino alla costa atlantica della Spagna e sepolto in un luogo chiamato Campus Stelle. In tale località sorge oggi il santuario di Santiago di Compostela, fin dal Medioevo, una delle principali mete di pellegrinaggio con Roma e Gerusalemme. Il corpo di San Tommaso Apostolo è custodito nella cattedrale di Ortona, Chieti, portato nel 1258 da Chios, isola del mare Geo, dove era stato posto in salvo dai cristiani dopo la caduta di Edessa nel 1146. A Edessa erano state portate da Madras, luogo del martirio nel 72, intorno al 230 per ordine dell'imperatore Alessandro Severo. Uno dei trenta denari per cui Giude Iscariota tra di Cristo è nella sacrestia della collegiata di Visso. Un corpo di San Bartolomeo Apostolo è a Roma, riportato sull'isola Tiberina da Pio IV, un altro in San Bartolomeo a Benevento. In ogni caso dovrebbe mancare a entrambi i corpi la calotta cranica, perché una è conservata nella cattedrale di Francoforte, l'altra nel monastero di Lune, Luneburg. Non si sa da quale corpo provenga la terza calotta, ora nella certosa di Colonia. Sempre di San Bartolomeo un braccio è nella cattedrale di Canterbiori, ma Pisa vante il possesso di parte della pelle. Il corpo di San Luca Evangelista è custodito presso la chiesa di Santa Giustina a Padova. Quello di San Marco, custodito da prima d'Antiochia, fu poi portato a Venezia. A Milano si conservavano anticamente le presunte spoglie dei re magi. Nel XII secolo l'imperatore Federico Barbarossa le prese come bottino di guerra e le portò a Colonia, dove si trovano tuttora. Alcuni resti furono restituiti a Milano negli anni 50 del Novecento e sono stati posti in San Eustorgio. Le spoglie di San Nicola di Bari, ovvero Santa Claus, erano custodite a Mira, in Asia Minore. Nel 1087 furono trafugate da alcuni marinai baresi e trasportate nella loro città. Il corpo di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, è sepolto nella cripta della basilica a lui dedicata, insieme ai corpi dei santi Gervasio e Protasio. Nella basilica di Sant'Antonio di Padova si conservano la lingua e le dita del santo. La mano di Santo Stefano d'Ungheria è conservata nella basilica di Budapest. Le ampolle con il sangue di San Gennaro sono ovviamente a Napoli. Parte del corpo di Santa Giuditta è conservata nella cattedrale di Nevero, mentre un frammento osseo è conservato in un prezioso reliquiario in cristallo di rocca, posto nella cripta delle tombe medicee in San Lorenzo, a Firenze. A Mister Bianco viene esposto il 17 gennaio il braccio di Sant'Antonio Abate. Quello di San Benedetto da Norcia è stato donato al monastero di Leno nell'VIII secolo su preghiera di Re Desiderio. Il corpo di Sant'Agata a Catania è suddiviso in vari reliquiari e gli orafi di Limoges hanno eseguito reliquiari per le membra, uno per ciascun femore, uno per ciascun braccio, uno per ciascuna gamba. Nel 1628 fu realizzato quello per la mammella, ma ulneradio di un braccio sono a Palermo, nella Cappella Regia. Un osso del braccio di Sant'Agata a Messina, nel monastero del Santissimo Salvatore, un altro a Dalì. Un dito di Sant'Agata è a Sant'Agata dei Goti, Benevento. Il corpo di San Pietro da Verona è nella Cappella Portinari in Sant'Eustorgio a Milano. Il 29 aprile si usa a urtare la testa per preservarla dal mal di testa. I resti di San Gregorio di Nazianzo sono a San Pietro, in Roma, ma una parte fu donata da Giovanni Paolo II al Patriarca di Costantinopoli nel 2004. Reliqui di San Lucido si trovano ad Acquarara. Rubate più volte, infine, la testa fu ritrovata dalle forze dell'ordine in una casa privata nel 1999. Reliqui di San Pantaleone si trovano nell'omonima chiesa di Lanciano, la spada che ha troncato la testa del santo, il carrello dentato con cui è stato martoriato il corpo, la fiaccola con cui sono state bruciate le ferite, un tronco di olivo che aveva germogliato a contatto con il corpo. Una costola di Santa Caterina e a Dastenè in Belgio, un piede nella chiesa dei Santi Giovanni Paolo a Venezia. Un dito e la testa, staccata dal corpo nel 1381 per volere di Papo Urbano VI, sono nella Basilica di San Domenico a Siena. Un pezzo di lingua di San Biagio e a Carotino, un braccio nella cattedrale di Ruvo di Puglia, il cranio a Dubrovnik. Troviamo un dente di Santa a Pollonia nella cattedrale di Porto, il corpo di San Ciriaco nel Duomo di Ancona, il cuore di Sant'Alfio a Lentini, il corpo di San Rocco a Venezia, nell'altare maggiore della chiesa dell'arci confraternita Scuola Grande. L'apofisi, che fa parte della scapola e un altro frammento osseo a Scilla, parte di un osso del braccio nell'omonima chiesa di Voghera, un'altra parte di un osso del braccio nell'omonima chiesa di Roma, una tibia e altre piccole parti della massa corporis e quel che si ritiene essere stato il suo bastone nel suo santuario di Montpellier, una falange nella parrocchiale di Cisterna di Latina, una parte di tallone nella cattedrale di Frigento, alcuni frammenti di ossa nella Basilica Mauriziana e nella chiesa della confraternita di San Rocco a Torino. A Costantinopoli venivano venerate rediquie poi disperse dopo la quarta crociata, come il manto della Madonna, il maforion, i sandali di Cristo, la veste di San Giovanni Battista, un'ampolla con il sangue di Cristo che venne usato per firmare certi documenti solenni, il parapetto del pozzo davanti al quale si svolse l'episodio evangelico di Cristo e la Samaritana, la pietra su cui venne composto il corpo di Cristo dopo la morte, il trono di Salomone, la verga di Mosè, i resti degli innocenti fatti uccidere da Erode, una porzione di sterco dell'asino sul quale Gesù entrò a Gerusalemme, l'icona della Vergine Odigitria, che sarebbe stata dipinta dall'Evangelista San Luca, le icone considerate miracolose in quanto non dipinte da mano umana, a cheropite, il mandulion, il panno con impressa l'immagine del volto di Cristo, inizialmente a Edessa, dove aveva fama di rendere invincibile la città quando esposto sulle mura. Non vorrei aver dato l'impressione che quello di conservare reliquie sia soltanto un pezzo cristiano, anzi cattolico. Plinio ci parla di reliquie preziose per il mondo greco-romano, come la lira di Orfeo, il sandalo di Elena o le ossa del mostro che aveva assalito Andromeda. E già in epoca classica la presenza di una reliquia costituiva un motivo di attrazione per una città o per un tempio e quindi rappresentava, oltre che un oggetto sacro, anche una preziosa merce turistica. Il culto delle reliquie è stato tipico di ogni religione e cultura e dipende da un lato da una sorta di pulsione che definirei mitomaterialistica, per cui si può ritrovare qualcosa del potere di un grande o di un santo toccando pezzi del suo corpo, dall'altro dal normale gusto antiquario, per cui il collezionista è disposto a spendere capitali non solo per avere la prima copia edita di un libro famoso, ma anche quella appartenuta a una persona importante. In questo secondo senso, ma forse anche nel primo, c'è anche un culto reliquiario laico e basterebbe leggere regolarmente i bollettini delle Aste Christis per vedere come un paio di scarpette appartenute a una celebre diva vengano proposte a prezzi superiori a quelli di un quadro di un pittore del Rinascimento. Questi memorabilia possono essere sia i guanti veri di Jacqueline Kennedy, sia quelli falsi indossati da Rita Hayward in Gilda. D'altra parte, ho visto molti turisti a Nashville, Tennessee, andare ad ammirare la Cadillac di Elvis Presley e dire che non era l'unica, perché ne cambiava una ogni sei mesi. Naturalmente, la reliquia più famosa di tutti i tempi è il Santo Graal, ma non consiglierei a nessuno di mettersi alla sua ricerca perché i precedenti non militano a favore dell'impresa. In ogni caso, è scientificamente provato che duemila anni non bastano. Grazie per l'attenzione! Se vi è piaciuto questo video e se avete piacere di farlo, iscrivetevi al mio canale e ci diamo un arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!